La giovane creatività internazionale è in mostra la triannale che si intitola EXPERIMENTA aperta a Tallinn. I protagonisti sono giovani fra i 14 e i 19 anni, da 10 paesi Estonia, Lettonia, Finlandia, Russia, Germania, Slovenia, Portogallo, Turchia, Canada e Brasile. Si espone nella chiesa di Santa Caterina e nel vecchio quartiere di Tallinn. EXPERIMENTA esiste da tre anni e spinge anche verso le contaminazioni con i temi scientifici. Nel ventunesimo secolo è importante superare la divisione fra arte e scienza. Sono troppo importanti le abilità per tutelare la vita. La sfida creativa diventa la capacità di pensare in modo critico e analitico e di considerare l'insieme della vita che ci circonda. Julius Eltret, esponente della compagine tedesca, ha creato l'installazione Spotted ed è fra i vincitori dei premi Inspiring Artist. Le persone di Monaco di Baviera sembrano molto snob. Ho preso così le fotografie dei miei amici di Monaco e le ho mostrate a persone estere che mi hanno comunicato le loro impressioni su come catalogare questi soggetti. La estone Solveig Saar ha dipinto cinque tavole dedicate alla violenza e al bullismo a scuola. È una cosa che avviene in modo naturale perché andare a scuola è una scelta naturale. Tuttavia, fra le classi settima e nona, si sono visti costanti episodi di bullismo. Sebbene adesso tutto sia a posto, queste cose lasciano comunque delle cicatrici negli animi. Esperimenta e fra le grandi offerte culturali dell'autunno estone.